Di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto, ma nel cuore nessuna croce manca. Scriveva così Giuseppe Ungaretti nella sua celebre poesia San Martino del Carso. Le vite che la grande guerra ha spezzato sono un peso scolpito nella mente del poeta. In lui, nel momento in cui scrive, e poi nelle generazioni successive, le immagini delle atrocità compiute restano impresse nel ricordo. Lo stesso ricordo che rimane vivo per la comunità di Vidor, che tra il 10 e 12 novembre ha commemorato i cento anni esatti della battaglia combattuta sulle sponde del Piave durante la grande guerra. Diciamo che ai cent'anni della battaglia di Vidor volevamo ricordarlo, fare una commemorazione, siamo riusciti a coinvolgere le scuole e le associazioni del territorio con delle visite guidate alle trincee e ieri sera con una grande fiaccolata molto partecipata che ha coinvolto tutta la popolazione e domani continueremo con la festa sezionale degli alpini. Militari che gli aveva inciso il suo nome perché gli aveva inciso sulle malte, su e gli aveva inciso il suo nome. L'impero austro-ungarico si era anche anesso alla Bosnia e Herzegovina 4-5 quintali di sassi, grossi anche come pugni. Perché, come vi ho detto, scatola cranica, scatola rigida, cervello parte morbida. Tra il cervello e la scatola cranica c'è una piccola. Cent'anni fa, proprio in queste colline, ci fu una battaglia cruenta. Proprio il 10 novembre del 1917, qui, proprio in queste terre dove siamo qui, morivano 315 soldati e ufficiali. E oggi, passati cent'anni, noi come gruppo alpini abbiamo voluto fare in queste colline una rivocazione storica. Abbiamo voluto portare i ragazzi delle elementari e delle medie qui, in queste colline, dove cent'anni fa ci fu questa battaglia, una prima battaglia d'arresto dopo Caporetto, che noi consideriamo una battaglia molto importante per il paese, perché ha permesso questi soldati, il sacrificio di questi soldati ha permesso a tanti cittadini di Vidor di salvarsi e tanti soldati italiani di ripiegare sull'altra sponda del Piave e secondo noi ha permesso poi di salvare quello che abbiamo adesso, della patria e tutto quanto. Essere in denunciao, sempre a trago, su e via, con quintali e 5 e come su. ...dai tedeschi, proprio con questo piccolo bipiede per dare mobilità. Oggi abbiamo voluto portare i ragazzi, con i ragazzi alle sentinelle ragazzuoi, al gruppo sentinelle ragazzuoi che con le loro divise, i loro armamenti, hanno spiegato ai giovani, ai ragazzi, come era la vita di Trincea, come erano le armi e come era la battaglia, ma sicuramente fanno una dimostrazione, non fanno veramente come era successo cent'anni fa. Ieri sera abbiamo fatto una fiaccolata, eravamo circa 300 persone che abbiamo toccato tutti i punti della battaglia, in silenzio, con una partecipazione enorme e nel silenzio cercavamo di sentire come erano i rumori di cent'anni fa. Rispost, art! Rispost, art! I ragazzi di oggi ho chiesto a tutti come è andata, mi chiedono a tutti che gli è piaciuto, spero che domani, lunedì quando vanno a scuola portano un bel ricordo, perché a tutti ho detto noi l'abbiamo fatto per voi, perché l'importante di questa manifestazione è ricordare per non dimenticare, loro sono la memoria nostra per il futuro e loro sono quelli che porteranno avanti il futuro e le memorie di questi soldati che sono caduti per quello che loro hanno adesso. E spero e da quello che sento che il gruppo Alpine Vidorci sia riuscito in questo e sono convinto di sì perché vedo che tutti quanti ci stanno facendo dei grandi complimenti. Vieni attenti! Sì, è giornata importante, importantissima per il nostro territorio perché abbiamo cominciato il giorno 10, perché il giorno 10 è proprio il giorno della battaglia qui a testa di Ponte di Vidor, per proteggere le truppe italiane che stavano arretrando e dovevano attraversare le piave. Allora noi abbiamo commemorato in tre giorni perché abbiamo invitato il comune di Petrido, il nostro gemellaggio, dove abbiamo ospitato i nostri cittadini come profughi, abbiamo invitato Imola dove c'è il capitano morto su questi colli, il Stefanino Curti e il Pinerolo, il maggiore, Ippolito Banfi che è morto su questo collo dove siamo noi ora. Loro sono stati degli eroi, oltre a loro non si potrà dimenticare che ci sono stati anche oltre 300 soldati morti in questi due colli, quindi bisogna ricordare che questo è importantissimo perché cento anni oggi e ieri sono stati morti queste 315 persone in questo territorio, quindi non si può dimenticare, anzi bisogna ricordare ogni anno questo avvenimento, questa storia e questa tragedia.